mio caro theo se ti scrivo ancora una volta oggi è perché ti accludo due righe per l'amico gauguin sentendo che la calma in questi giorni tornava mi è sembrato di potermi fidare che la lettera non fosse del tutto assurda del resto venendo meno ai propri scrupoli di rispetto di sentimento non è detto che si guadagni in prosperità e in buon senso ciò premesso va bene ricominciare a parlare con gli amici seppure a distanza e tu bravo ragazzo come va e scrivimi due righe in questi giorni perché immagino che le emozioni che devono agitare un prossimo padre di famiglia emozioni di cui il nostro buon padre amava tanto parlare devono essere per te come per lui molto grandi e di buona lega ma ora ti sarà un po' difficile esprimerle nella confusione un po' incoerente delle piccole mischinità parigine in questo modo la realtà deve essere come un colpo di mistral un po' rude ma risanatore ti assicuro che questo mi fa un gran piacere e che ciò contribuirà molto a farmi uscire dalla mia stanchezza morale e dalla mia indifferenza c'è di che riprendere un po' il gusto della vita quando penso che passerò allo stato di zio di questo ragazzino che tua moglie sta progettando mi sembra molto strano che la sia così sicura che sia un maschio ma comunque si vedrà nel frattempo non posso far altro che zampettare un po' fra i miei quadri ne sto facendo uno del sorgere della luna sullo stesso campo che c'è nello schizzo della lettera di Gauguin ma nel quale i pagliai sostituiscono il grano è giallocra, sordo e violetto comunque lo vedrai fra poco ne sto facendo anche un altro con l'edere soprattutto mio caro te ne prego non farti cattivo sangue non inquietarti o malinconirti per me l'idea che tu ti farai certamente di questa quarantena necessaria salutare sarebbe giustificata dal fatto che è necessario un miglioramento lento e paziente e questo se riusciremo ad ottenerlo ci farà risparmiare le nostre forze per quest'inverno comunque bisognerà cercare di tenersi occupati spesso penso che quest'inverno potrei ritoccare diversi studi dell'anno scorso di Arl in questi giorni avendo per le mani un grande studio di un frutteto che era stato molto difficile è lo stesso frutteto di cui troverai una variante ma molto vaga in quello che ti mando mi sono messo a rifarlo a memoria e sono riuscito ad esprimere meglio l'armonia dei vari toni dimmi hai ricevuto dei disegni miei? una volta ti ero mandati una mezza dozzina per posta e più tardi una decina se per caso non li avesse ancora ricevuti devono essere giacenti alla stazione da giorni e settimane il dottore mi parla di Monticelli che gli aveva sempre considerato come un po' eccentrico ma che pazzo lo era stato solo verso la fine pensando a tutte le miserie degli ultimi anni di Monticelli si si può stupire che sia crollato sotto il peso troppo forte e si ha ragione quando da questo si vorrebbe dedurre che artisticamente parlando è un pittore mancato io penso di no in lui c'era un ragionamento estremamente logico e una originalità di artista che è deplorevole e non abbia potuto sostenere in modo da rendere più completa la sua evoluzione ti mando qui eccluso uno schizzo delle cicale di qui durante i grandi caldi il loro canto ha per me lo stesso fascino di quello del grillo delle case dei contadini dalle nostre parti caro ragazzo non dimentichiamo che le piccole emozioni sono i grandi condottieri delle nostre vite e che a questo noi obbediamo senza saperlo se mi è ancora difficile ritrovare il coraggio per gli errori commessi e che commetterò per quanto si riferisce alla mia guarigione non dimentichiamo per questo che sia i nostri splen e le nostre malinconie sia i nostri sentimenti di serenità e di buon senso non sono le nostre uniche guide e neppure le nostre difese decisive e che se ti trovi davanti a dure responsabilità di rischio ti prego non preoccupiamoci troppo l'uno dell'altro e anche se le circostanze della vita ci hanno fortuitamente allontanato tanto dalle nostre concezioni di gioventù sulla vita di un artista noi restiamo comunque fratelli e sotto certi aspetti compagni di ventura le cose stanno in modo che qui si trovano gli scarafaggi nel mangiare come se fossimo veramente a Parigi e potrebbe anche essere che tu a Parigi abbia talvolta il vero ricordo dei campi non è molto ma in un certo senso è consolante accetta dunque la tua paternità come l'accetterebbe un brav'uomo delle nostre vecchie brughiere le quali attraverso il rumore il tumulto la nebbia l'angoscia della città si rimangono ineffabilmente care anche se per esse proviamo una timida tenerezza voglio dire accetta la tua paternità nella tua qualità di povero di straniero e di esiliato basandoti con l'istinto del povero sulla probabilità di una vera esistenza della patria una vera esistenza almeno del ricordo della patria anche se tutti i giorni dimentichiamo qualcosa presto ci incontreremo presto poi incontreremo il nostro destino ma certo che per te come per me sarebbe un po' da ipocriti dimenticare il nostro buon umore il nostro lasciar perdere fiducioso di poveri diavoli come quando arriviamo in questa Parigi così estranea attualmente per lasciarci appesantire troppo alle nostre preoccupazioni veramente ovviamente sono contento del fatto che qui talvolta ci sono degli scarafaggi nel mangiare a casa tua ci sono una moglie e un bambino del resto è una cosa tranquillizzante che ad esempio Voltaire ci abbia lasciato i liberi di non credere assolutamente a tutto quello che immaginiamo e così condividendo le preoccupazioni di tua moglie sulla tua salute sono arrivato fino a credere ciò che per un momento ho pensato che le preoccupazioni per me erano la causa del tuo silenzio relativamente lungo nei miei riguardi perché ciò si spiega molto bene quando si pensa quanto una gravidanza debba necessariamente preoccupare ma è una cosa molto giusta ed è la strada che percorrono tutti nella vita a presto è una forte stretta di mano a te e a Joe tuo Vincent in fretta ma non volevo tardare a mandare la lettera per l'amico Gauguin tu conoscerai certamente l'indirizzo Saint-Rémy 10 settembre 1889 mio caro Theo trovo la tua cara lettera quello che dici di Rousseau di artisti come Bodmer che in ogni modo erano uomini e che di simili se ne desidererebbe pieno il mondo è proprio ciò che penso anch'io e trovo perfetto che Weissenbruch conosca e faccia le strade fangose lungo i fiumi i salici intristiti gli scorsi e le prospettive sapienti e strane dei canali così come Dumie conosceva e faceva gli avvocati Ter Steg ha fatto bene ad acquistare del lavoro suo gente così non si vende e secondo me dipende dal fatto che ci sono troppi venditori e cercano di vendere per incannare il pubblico e prenderlo in giro tu sai che ancora oggi quando leggo per caso la storia di qualche industriale energico e soprattutto di un editore mi tornano la stessa indignazione le stesse collere di quando ero presso i Gupil e sì la vita passa così nel tempo non ritorna ma io mi accanisco nel mio lavoro e anche per questo so che anche le occasioni di lavorare non ritornano soprattutto nel mio caso nel quale una crisi più violenta può distruggere per sempre la mia capacità di dipingere durante la crisi mi sento vile per l'angoscia e la sofferenza più vile di quanto sarebbe sensato sentirsi ed è forse questa viltà morale che mentre prima non mi faceva provare nessun desiderio di guarire ora mi fa mangiare per due lavorare tanto e risparmiarmi ai miei contatti con gli altri malati per paura di ricadere insomma in questo momento cerco di guarire come uno che avendo voluto suicidarsi e avendo trovato l'acqua troppo fredda cerca di riguadagnare la riva mio caro fratello sai bene che sono venuto nel sud e che mi sono buttato nel lavoro per mille ragioni per vedere un'altra luce credendo che guardando la natura sotto un cielo più chiaro si potesse dare un'idea più esatta del modo di sentire e di disegnare dei giapponesi infine per vedere questo sole più forte perché si sente che senza conoscerlo non si potrebbe capire dal punto di vista dell'esecuzione e della tecnica i quadri di Delacroix e perché si sente che i colori del prisma sono velati dalla bruma del nord e tutto ciò è in parte esatto quando poi si aggiunga una simpatia istintiva verso questo sud che Daudet ha descritto in Tartaran e che qua e là io stesso ho trovato delle cose e degli amici da amare capirai che pur trovando orribile la mia malattia sento che quando anche mi fosse attaccato troppo qui attaccamento che può far sì che mi riprenda in seguito lo voglio di lavorare qui oppure può avvenire che relativamente presto io ritorni nel nord sì perché non ti nascondo che sebbene in questo momento venuta con avidità mi viene un desiderio tremendo di rivedere gli amici e la campagna del nord il lavoro va benissimo trovo delle cose che ho cercato in vano per anni e sentendo ciò mi viene sempre in mente quella frase di Delacroix che tu conosci che aveva trovato la pittura quando non aveva più né denti né fiato ed io con la mia malattia mentale penso a tanti altri artisti che soffrono moralmente e mi dico che ciò non costituisce un impedimento per dipingere come se niente fosse dato che mi accorgo che qui le crisi tendono a prendere uno sfondo decisamente religioso arrivo a credere che sia persino necessario ritornare al nord non parlare troppo di questo con il dottore quando lo vedrai ma non so se ciò dipenda dal fatto di avere vissuto per tanti mesi al ricovero di Arles e qui in questi vecchi chiostri insomma bisogna che non viva in un ambiente come questo in tal caso è meglio persino la strada non sono indifferente e nella sofferenza talvolta i pensieri mi consolano e questa volta durante la malattia mi è successa una disgrazia quella ritografia di Delacroix la pietà con altre tavole era caduta nell'olio e nella pittura e si è rovinata ne ero rattristato e allora nel frattempo mi sono preoccupato di dipingerla e tu la vedrai un giorno su una tela da cinque o sei e ne ho fatto una copia che credo sia sentita del resto ho visto poco tempo fa il Daniel e le odalische e il ritratto di Brià e la mulatta a Montpellier sono ancora sotto l'impressione che mi ha provocato ecco ciò che mi edifica come leggere un bel libro quale quello di Becherstove o di Dickens mentre quello che mi dà fastidio è di vedere in ogni momento quelle brave donne che credono alla vergine di Lourdes e che inventano delle cose del genere oppure di sapersi prisioniero di un'amministrazione come questa che favorisce molto volentieri queste aberrazioni religiose mentre sarebbe necessario guarirne e allora mi ripeto ancora una volta che sarebbe forse meglio andare se non all'ergastolo almeno sotto le armi e mi rimprovero la mia viltà avrei dovuto difendere meglio il mio studio avrei dovuto battermi con le guardie e con i miei vicini altri al posto mio si sarebbero serviti di un revolver e se come artista avessi anche ucciso degli imbecilli come quelli sarei stato assolto ecco sarebbe stato meglio che lo avessi fatto invece sono un vigliacco e un ubriaco anche ammalato ma non sono stato coraggioso e ora davanti alla sofferenza che mi danno queste crisi mi sento pieno di timore e non so se il mio zelo dipenda da qualcosa di diverso da quello che dico e cioè come colui che volendosi suicidare e trovando l'acqua troppo fredda lotta per riguadagnare la riva ma stammi a sentire stare a pensione come ho visto fare tempo fa fortunatamente molto tempo fa brat questo no proprio no altro sarebbe se papà Pissarro oppure Vignon ad esempio volessero prendermi con loro guarda io sono un pittore è una cosa che si può combinare ed è meglio che i soldi vadano nelle tasche dei pittori piuttosto che in quelle delle eccellenti suore ieri ho domandato a bruciapelo al signor Peyron dato che lei va a Parigi che direbbe se le proponessi di prendermi con lei ha risposto in modo evasivo che era una cosa troppo precipitosa e che bisognava scriverti prima ma lui è molto buono e molto indulgente con me eppur non essendo il padrone assoluto qui tutt'altro gli devo molta libertà perché non bisogna solo fare dei quadri ma bisogna anche vedere le persone e di tanto in tanto frequentando gli altri rifarsi il carattere e fare provviste di idee ormai abbandono la speranza che non ritorni più al contrario mi dico che di tanto in tanto avrò una crisi ma allora in quei momenti si potrebbe entrare in una casa di salute o persino nella prigione comunale dove di solito c'è una cella comunque non farti cattivo sangue in nessun caso il lavoro va bene e non puoi immaginare quanto mi dia gioia poter dire farò ancora questo e quest'altro i campi di grano eccetera ho fatto il ritratto dell'infermiere e ne ho fatto una copia anche per te esso fa un curioso contrasto con il ritratto che ho fatto di me dove lo sguardo è vago e velato mentre lui ha qualcosa di militare e degli occhi neri piccoli e vivi glielo ho regalato e ne farò uno anche a sua moglie se vorrà posare è una donna appassita un'infelizia rassegnata e non un granché è così insignificante che mi è venuto voglia di farsi insieme quel filo d'erba pieno di polvere ho parlato qualche volta con lei quando dipingevo gli olivi dietro la loro piccola capanna e allora mi diceva che non credeva che io fossi malato e anche tu lo diresti ora se mi vedessi lavorare con i pensieri limpidi la mano sicura con cui ho disegnato senza prendere una sola misura quella pietà di Delacroix nella quale ci sono ben quattro mani e braccia in primo piano desti e posizioni del corpo non proprio comode semplici te ne prego mandami presto la tela se ciò ti è possibile e inoltre credo di aver bisogno di altri dieci tubi di bianco di zinco e io so che la guarigione viene se si è coraggiosi dal di dentro con la rassegnazione alla sofferenza e alla morte con l'abbandono della propria volontà e dell'amor proprio ma ciò non ha importanza per me mi piace dipingere mi piace vedere gente e cose e mi piace tutto ciò che costituisce la nostra vita diciamo pure anche superficiale sì la vita vera sarebbe un'altra cosa ma io non credo di appartenere a quella categoria di anime che sono pronte a vivere ed anche a soffrire in qualsiasi momento che cosa strana è il tocco il colpo di pennello all'aria aperta esposti al vento al sole alla curiosità della gente si lavora come si può si riempie il quadro alla disperata ed è proprio facendo così che si coglie il vero e l'essenziale questa è la cosa più difficile ma quando dopo un certo tempo si riprende lo stesso studio e si dispongono le pennellate nel senso degli oggetti è certamente più armonioso e piacevole da vedere che si può aggiungere quanto si ha di serenità e di sorriso non potrò mai rendere le mie impressioni di alcune figure viste qui certo c'è la strada dove ci sono tante cose nuove la strada del sud ma i uomini del nord fanno fatica a capirla e io prevedo già che il giorno in cui avrò un certo successo comincerò a rimpiangere la mia solitudine ed il mio accoramento di qui allorché guardo attraverso le sbarre di ferro della mia cella il falciatore nei campi ai miei piedi la disgrazia serve a qualcosa per riuscire per assicurarsi un successo che duri bisogna avere un temperamento diverso dal mio io non farò mai ciò che avrei potuto e dovuto volere perseguire ma a me non è consentito vivere soffrendo così spesso di vertigini che in una posizione di quarto quinto rango e anche quando sento il valore l'originalità e la superiorità di De La Croix di Millet per esempio allora mi faccio forte e dico sì sono qualcosa anch'io posso qualcosa ma ho bisogno di trovare un appoggio in quegli artisti e poi produrre quel poco che posso nella stessa direzione papà Pissarro ha avuto un grave colpo con quelle due disgrazie contemporanee appena ho letto mi è venuta l'idea di chiedergli se non ci fosse la possibilità di andare a stare con lui se tu gli pagassi la stessa retta che paghi qui vi troverebbe il suo vantaggio perché non ha bisogno di gran cosa altro che di lavorare fagli perciò la proposta chiara e se lui non volesse andò da Avignon ho un po' di paura de Pontavane c'è tanta gente ma quello che dice di Gauguin mi interessa molto io mi ripeto sempre che Gauguin ed io forse torneremo a lavorare insieme so che Gauguin può fare cose molto superiori a quelle che fa ma per mettere a suo agio quello lì spero sempre di fargli il ritratto hai visto quel ritratto che mi aveva fatto mentre dipingevo i girasoli la mia faccia da allora si è molto rischiarata ma ero proprio io estremamente stanco e carico di elettricità come ero allora ma intanto per vedere il paese bisogna vivere con il popolino e in case piccole e nei caffè e anche ciò che dicevo a Boch che si lagnava di non vedere niente che lo tentasse o gli facesse provare qualcosa passeggio con lui per due giorni e gli faccio vedere almeno 30 quadri così diversi dal nord come lo sarebbe il marocco sarai curioso di sapere cosa sta facendo in questo momento e poi vuoi sapere perché i quadri di Delacroix i quadri religiosi e storici la barca di Cristo la pietà le crociate hanno quell'atmosfera perché Eugène Delacroix quando dipinge un Dezèmani è andato prima a vedere sul posto ciò che era un oliveto e lo stesso vale per il male frustato dal mistral e perché si è detto la gente di cui ci parla la storia d'oggi di Venezia crociati apostoli sante donne erano dello stesso tipo e vivevano in modo analogo a quello dei loro attuali discendenti e perciò te lo devo dire e tu lo puoi vedere nella Bersese per quanto quel tentativo sia mancato e debole se avessi avuto la forza di continuare avrei fatto dei ritratti di santi e di sante dal vero e che sarebbero sembrati di un altro secolo pur essendo gente di oggi e avrebbero avuto un'intima parentela con i cristiani più primitivi le emozioni che questo ci provoca sono però troppo forti io rinuncio ma più tardi più tardi non è detto che non ritorni alla carica che grand'uomo quel formantin lui resterà sempre la guida per quelli che vorranno vedere l'Oriente lui ha stabilito per primo la congiunzione tra Rembrandt e il Sud tra Potter e quello che vedeva lui hai mille mille ragioni non bisogna pensare a queste cose bisogna fare anche se si trattasse di studi di caboli e di insalata per calmarsi e dopo essersi calmati solo allora fare ciò di cui siamo capaci quando ti vedrò farò delle copie di quello studio della diligenza di Tarascon della vigna della mia titura e soprattutto del caffè rosso quel caffè di notte che come colore è ciò che vi è di più caratteristico ma la figura bianca del centro deve essere rifatta proprio come colore costruita meglio ma esso osa dirlo è proprio un Sud autentico una combinazione ben calcolata di verdi e di rossi le mie forze si sono esaurite troppo presto ma vedo fin d'ora la possibilità per altri di fare un'infinità di belle cose e rimanere sempre vera e valida l'idea che per facilitare il viaggio di altri sarebbe stato opportuno fondare uno studio da qualche parte in questa zona fare tutto un viaggio dal nord alla Spagna per esempio non va bene non vi si può vedere ciò che si deve vedere bisogna farsi gli occhi prima e gradualmente alla luce diversa io non ho troppo bisogno di vedere i Tiziano e i Velasquez nei musei ho visto alcuni tipi vivi che fanno sì che sappia meglio ciò che è un quadro del Sud di quanto lo sapessi prima del mio viaggio Dio mio Dio mio una brava gente fra gli stessi artisti che dice che della Croix non è l'Oriente vero di un po' ma allora l'Oriente è vero è quello che fanno i parigini tipo Jerome poiché voi sapete dipindere un pezzo di muro assolato anche dal vero e bene ed esatto secondo il vostro modo di vedere del nord ciò prova forse che voi abbiate visto la gente dell'Oriente ora è questo che cercò della Croix il che non gli ha assolutamente impedito di dipingere dei muri nelle nozze ebraiche o nelle odalische non è vero ciò e anche se Degas dice che è un pagare troppo caro il bere nei tabaren dipingendo i quadri non lo nego ma vorrebbe forse che io vada nei conventi o nelle chiese è proprio lì che ho paura ecco perché faccio uno sforzo di evasione con la presente lettera una forte stretta di mano a te e a Joe bisogna ancora che ti faccia gli auguri in occasione del compleanno della mamma avevo scritto loro ieri ma la lettera non è ancora partita perché mi è mancata la testa per completarla è strano che già prima mi sia venuta due o tre volte l'idea di andare da Pissarro e quest'ultima volta dopo che mi ha parlato delle sue ultime disgrazie non esito a dirti di chiederglielo sì bisogna farla finita con qua giù non posso fare due cose contemporaneamente lavorare e avere un sacco di guai per vivere in mezzo a questi strani malati che ci sono qui è una cosa che rovina la salute mi dovrei sforzare inutilmente di scendere con loro ed ecco perciò sono già due mesi che non sono stato all'aria aperta stando qui a lungo andare perderei la facoltà di lavorare ma a questo punto comincio a dire alto là e allora li mando tutti se tu sei d'accordo a farsi benedire e ancora pagare per tutto ciò no nella disgrazia un artista o un altro sarà pur disposto a tenermi con sé è una fortuna che tu mi possa scrivere che stai bene e anche giù e che sua sorella è lì con voi vorrei che quando nascesse il vostro figliuolo fossi già di ritorno ma non con voi certamente no è impossibile ma nei dintorni di Parigi insieme a un altro pittore per citare un terzo potrei andare dai juf che hanno tanti bambini e una casa grande come hai capito ho cercato di fare il paragone fra la seconda crisi e la prima e ti dico solo questo che mi sembra sia stata imputabile a non so quale influenza esterna piuttosto che a una causa che albergava in me stesso posso sbagliarmi ma ciò nonostante credo mi darai ragione c'è un senso di terrore per qualsiasi esagerazione religiosa il buon signor Peyron ti racconterà un sacco di cose ti parlerà di probabilità di possibilità di atti involontari bene ma se entra nei particolari non ci credo e allora vedremo in che particolari entrerà se c'entrerà il trattamento dei malati in questo ricovero è molto facile e può essere seguito anche in viaggio perché non si fa loro assolutamente niente e si lascia vegetare nell'ozio e si nutre con cibo scadente e un po' avariato ora ti dirò che fin dal primo giorno ho rifiutato di mangiare quel cibo e che fino alla mia crisi ho mangiato solo pane e un po' di minestra e che finché resterò qui non prenderò altro è vero che il signor Peyron dopo questa crisi mi ha dato vino e carne e che nei primi giorni l'ho accettato volentieri ma non vorrei derogare a lungo dalla regola del ricovero ed è giusto valutare una casa di salute secondo il suo regime normale devo anche dirti che il signor Peyron non mi dà molte speranze per l'avvenire ma qualcosa trovo giusta mi fa pensare che tutto è dubbio e che niente può essere assicurato anticipatamente io stesso sono sicuro che ritorneranno ma il lavoro mi occupa talmente che con il mio fisico credo che potrò continuare a lungo così l'ozio nel quale vegetano quei poveri infelici è una calamità e diventa un male generale disseminato fra le città e le campagne sotto questo sole più ardente e dato che ho imparato questo e altro è il mio dovere resistergli chiudo questa lettera ringraziandoti ancora della tua pregandoti di scrivermi di nuovo presto e stringendoti forte la mano col pensiero San Remy 18 novembre 1889 mio caro Teo devo ringraziarti molto di un rinvio di colori che era accompagnato da una stupenda casacca di lana come sei buono con me e come vorrei poter fare qualcosa di buono per provarti che vorrei essere meno ingrato i colori mi sono arrivati al momento giusto perché quel che avevo portato da Arle è quasi esaurito il fatto è che questo mese ho lavorato fra gli uliveti perché mi avevano fatto arrabbiare con i loro cristi nell'orto degli ulivi dove non c'era niente dal vero ben inteso che non ho intenzione di fare qualcosa tratto dalla Bibbia l'ho scritto a Bernard e anche a Gauguin che credevo fosse nostro dovere pensare e non sognare e che quindi sono rimasto sorpreso vedendo il loro lavoro che si lasciano andare a una cosa simile perché Bernard mi ha mandato le fotografie nei suoi quadri quel che hanno è che sono specie di sogni e di incubi c'è dell'erudizione si vede che c'è qualcuno che va pazzo per i primitivi ma francamente i pre-rafaelliti inglesi facevano cose molto migliori e poi i poufei della croix erano ancora più sani dei pre-rafaelliti non che questo mi lasci freddo ma mi dà un penoso senso di una scivolata invece che di un progresso e allora per scuotermi da questo ogni mattina e ogni sera in questi giorni chiari e freddi ma con un sole bello e schietto sono andato ad arrabbattarmi fra i frutteti e ne sono risultati cinque quadri da trenta che insieme ai tre studi di uliveti che hai già costituiscono almeno un tentativo di affrontare la difficoltà l'olivo è cangiante come il nostro salice tu sai che i salici sono molto pittoreschi nonostante sembrino monotoni e sono gli alberi a cui corrisponde il carattere del paese ora ciò che il salice è da noi lo sono con la stessa importanza l'olivo e il cipresso qui ciò che ho fatto è un realismo un po' duro e grossolano accanto alle loro astrazioni ma servirà a dare la nota a greste e saprà di terra come mi piacerebbe vedere gli studi dal vero di Gauguin e di Bernard quest'ultimo mi parla di ritratti che sono certo mi piacerebbero di più spero di abituarmi al freddo la mattina ci sono effetti di brina gelata e di nebbia molto interessanti e poi ho sempre un grande desiderio di fare per le montagne e per i cipressi ciò che ho fatto per gli oliveti come è stato raramente dipinto l'olivo e il cipresso e dal punto di vista della vendita dei quadri in Inghilterra devono andare so benissimo ciò che cercano da quelle parti che che ne sia di questo sono quasi sicuro che in questo modo di tanto in tanto faccio una cosa passabile sono sempre più convinto come del resto ho già detto a Isaacson che lavorando assiduamente dal vero senza dirsi preventivamente voglio fare questo o quest'altro ma lavorando come se si facessero delle scarpe senza preoccupazioni artistiche non si farà sempre bene ma verrà il giorno in cui anche non pensandoci si troverà un soggetto di pari valore del lavoro di quelli che ci hanno preceduto si impara a conoscere un paese che in fondo è completamente diverso da come ci è apparso a prima vista ma se al contrario ci si dice voglio finire meglio i miei quadri voglio farli con cura è un sacco di idee del genere le difficoltà del tempo e dei soggetti mutevoli arrivano ad essere insormontabili e finisco col rassegnarmi dicendomi che sono l'esperienza e il piccolo lavoro di ogni giorno che a lungo andare maturano e permettono di completare un quadro o di farlo più esatto perciò il lavoro lento e continuo è la sola strada e qualsiasi ambizione di far bene è sbagliata perciò è meglio rovinare le tele montando sulle brazze ogni mattina che riuscire a farle per dipingere sarebbe assolutamente necessaria una vita tranquilla e regolata con i tempi che corrono che cosa si può fare quando si vede che per esempio Bernardo è sempre premuto 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 dai suoi genitori non può fare come vuole e tanti altri sono come lui se diciamo non dovessi più dipingere che cosa potrei fare e bisognerebbe inventare un processo pittorico più veloce meno costoso di quello all'olio e ugualmente duraturo un quadro finirà col diventare banale come un discorso e un pittore è un essere inarretrato di un secolo eppure è un peccato che sia così ora se i pittori avessero capito meglio Millet come uomo o come alcuni quali Hermit e Roll l'hanno affettato le cose non sarebbero questo punto bisogna lavorare tanto quanto e con altrettante poche pretese di un contadino se si vuole durare a lungo e sarebbe meglio piuttosto che fare delle esposizioni grandiose rivolgersi al popolo e lavorare perché ognuno possa avere a casa propria un quadro o qualche riproduzione che serva di lezione come l'opera di Millet ho quasi terminato la mia tela e quando potrai ti prego di mandarmi dieci metri e ora andrò all'attacco dei cipressi e della montagna credo che questo diventerà la parte centrale del lavoro che ho fatto qua e là in Provenza e allora potremo chiudere il soggiorno qui quando ci sembrerà più opportuno e che non è urgente perché Parisi in fondo mi distrae eppure non lo so dato che non sono pessimista mi dico sempre che ho ancora in mente di dipingere un giorno un negozio di libri con tutta la vetrina gialla rosa di sera con i passanti in nero è un motivo così moderno guarda sarebbe proprio un soggetto che starebbe bene fra un uliveto e un campo di grano la seminagione fra i libri le stampe e questo ho proprio in mente di farlo come una luce in mezzo alle tenebre sì c'è la possibilità di vedere il bello anche a Parigi ma insomma i negozi di libri non sono delle repri e perciò non scappano e ho intenzione di lavorare ancora qui per un anno e sarà la cosa più saggia da oltre una quindicina di giorni la mamma deve essere a Leida ho tardato a mandare i quadri a lei perché aggiungerò a questi anche il campo di grano tante cose a Joe è molto brava a continuare a stare bene grazie ancora una volta dei colori e della casacca di lana e una forte stretta di mano tuo Vincent Saint-Rémy 29 aprile 1890 mio caro Theo fino ad oggi non ho potuto scrivere ma poiché in questi giorni stavo un po' meglio non ho voluto tardare ad augurare un anno felice a te a tua moglie e al tuo bambino dato che è la tua festa nello stesso tempo ti prego di accettare i diversi quadri che ti mando con i miei ringraziamenti per tutta la bontà che hai per me perché senza di te sarei proprio un'infelice vedrai che ci sono innanzitutto dei quadri tratti da Milet dato che quelli non erano destinati al pubblico ne potrai forse far dono alle nostre sorelle presto o tardi ma prima di tutto terrai per te quelli che ti piaceranno e quanti ne vorrai sono assolutamente tuoi e in questi giorni se troverai qualcos'altro di artisti antichi o moderni da fare mandamelo il resto dei quadri è poca cosa non avendo potuto lavorare per ben due mesi sono molto indietro troverai che gli oliveti con il ciliaggio rosa sono le cose migliori credo insieme alle montagne i primi vanno bene in coppia con quelli col cielo giallo per il ritratto di Arlesiana sai che ho promesso un esemplare all'amico Gauguin e glielo farai per venire poi i cipressi sono per il signor Aurier avrei voluto farli con i colori meno impastati ma me ne è mancato il tempo e poi bisogna lavarli ancora diverse volte in acqua fredda e poi verniciarli molto quando le pennellate saranno completamente asciutte e allora i neri non sporcheranno più quando l'olio sarà completamente evaporato ora avrai bisogno di colori che in parte potresti comprare nuovamente da Tanguy se si sentisse imbarazzato o se gli facesse piacere ma bene inteso non bisogna che sia più caro dell'altro ecco la lista dei colori di cui avrai bisogno 12 bianco di zinco 3 cobalto e 5 verde veronese tubi 1 lacca ordinarie 2 cromo 2 grandi 2 verde smeraldo 4 cromo 1 1 minio arancione 2 oltremare poi ma data se 2 lacca geranio tubi formato medio mi faresti un grande favore facendomi arrivare almeno la metà subito perché ho già perduto troppo tempo poi avrai bisogno di 6 pennelli di puzzola e 6 o 10 metri di tela che dirti di questi due mesi passati non va affatto bene sono triste e scioccato più di quanto non riesca a dirti e mi sento smarrito dato che l'ordinazione di colori è un po' forte mandamene la metà se preferisci pur essendo malato ho ancora fatto dei piccoli quadri a memoria dei ricordi del nord che vedrai più tardi ora ho appena terminato un angolo di prateria piena di sole che mi sembra abbastanza vigoroso presto lo vedrai dato che il signor Peron era assente non ho ancora letto le lettere ma so che è arrivato è stato abbastanza cortese da parte sua metterti al corrente della situazione non so cosa fare e cosa pensare ma ho una gran voglia di uscirmene di qui ciò non ti stupirà non ho neppure bisogno di dirti altro sono anche arrivate delle lettere da casa che non ho ancora avuto il coraggio di leggere tanto mi sento malinconico ti prego di dire al signor Orie di non scrivere più articoli sulla mia pittura insisti prima di tutto si sbaglia sul mio conto e poi realmente mi sento troppo oppresso dal dolore per poter far fronte a delle pubblicità dipingere quadri mi distrae ma sentirne parlare mi dà più pena di quanto lui non possa pensare come va Bernard poi ci sono dei quadri doppi se vuoi potresti fare uno scambio perché un quadro suo di buona fattura starebbe bene nella tua raccolta mi sono ammalato nel momento in cui stavo facendo i fiori di mandorlo se avessi continuato a lavorare puoi capire da solo che ne avrei fatti molti di alberi in fiore e ora gli alberi in fiore sono quasi finiti non hanno proprio fortuna sì bisogna cercare di uscire di qui ma dove andare non credo si possa essere più chiusi e più prigionieri nei ricoveri nei quali non si ha la pretesa di lasciarci liberi come a Charenton e a Montverges si scrive a casa di tante cose da parte mia e che io penso spesso a loro e poi una buona stretta di mano a te e a Joe credimi tuo Vincent ti prego mandami quello che trovi di figura nei miei vecchi disegni ho in mente di rifare il quadro dei contadini a tavola effetto di luce della lampada quella tela sarà ora nera forse potrei rifarla a memoria completamente mandami soprattutto le spigolatrici e i vangatori se ci sono ancora e poi se vuoi rifarò la vecchia torre di Noinen e la capanna di stoppie credo che se li hai ancora ora farà qualcosa di meglio a memoria San Remy prima metà di maggio 1890 mio caro fratello grazie della tua cara lettera e della fotografia di Joe che è molto carina e anche molto riuscita come posa ecco nel risponderti sarò il più possibile chiaro e pratico prima di tutto scarto categoricamente quello che mi dici di farmi accompagnare per tutto il viaggio una volta in treno non rischio più niente non sono di quelli che sono pericolosi anche supponendo che sopravvenga una crisi e non ci sono altri passeggeri nel vagone e del resto in tutte le stazioni non sanno forse che cosa fare in questi casi ti stai dando delle preoccupazioni che mi procurano molta pena che mi scoraggiano del tutto ho detto la stessa cosa al signor Peyron e gli ho fatto osservare che le crisi come quella che ho appena avuto sono sempre seguite da un periodo di tre o quattro mesi di calma completa desidero approfittare di questo periodo per cambiare voglio cambiare a qualunque costo il mio desiderio di partire di qui è ora assillante non mi sento in grado di giudicare il modo di curare i malati di qui non sento nemmeno il desiderio di entrare in particolari ma desidero ricordarti che ti ho già avvertito circa sei mesi fa che se mi fosse ritornata una crisi dello stesso tipo avrei desiderato cambiare asilo e ho già tardato troppo perché ho lasciato passare troppo tempo dopo l'attacco era un pieno lavoro e volevo terminare i quadri cominciati altrimenti non sarei già più qui bene ti dico perciò che credo bastino una quindicina di giorni al massimo otto giorni mi farebbero ancora più piacere per prendere tutte le disposizioni necessarie per cambiare mi farò accompagnare fino a Tarascon anche due o tre stazioni più in là se ci tieni arrivato a Parigi alla mia partenza di qui ti spedirò un telegramma verrai a prendermi alla guerre di Lyon e poi mi sembra consigliabile di andare a trovare quel medico in campagna da appena possibile e allora potremo lasciare i bagagli alla stazione rimarrai a casa tua non più di due o tre giorni e poi partirei per quel paese dove comincerei col sistemarmi alla locanda ecco quello che mi sembra potresti fare in questi giorni senza tardare scrivere al nostro amico futuro il medico in questione poiché mio fratello desidera fare la sua conoscenza e preferisce consultarla prima di prolungare la sua permanenza a Parigi spero che lei sia d'accordo che gli passi alcune settimane nel suo paese dove verrà a fare degli studi e gli ha piena fiducia di essere capito da lei e crede che con un ritorno nel nord la sua malattia regredirà mentre con un prolungato soggiorno nel sud il suo stato minazzerebbe di diventare più acuto ecco tu gli scriverai in questo modo poi gli manderemo un telegramma uno o due giorni dopo il mio arrivo a Parigi e con molta probabilità mi verrà ad aspettare alla stazione l'ambiente qui comincia a pesarmi più di quanto possa dirti in fede mia ho appazientato più di un anno ho bisogno di aria mi sento rovinato dalla noia e dal dolore e poi il lavoro urge qui perderai tempo perché dunque ti chiedo hai paura di incidenti non è questo che deve spaventarti in fede mia da quando sono qui ne vedo cadere o dar fuori di senno ogni giorno quello che è più importante è cercare di limitare la disgrazia ti assicuro che è già qualcosa essersi rassegnati a vivere sotto sorveglianza anche se questa è simpatica e a sacrificare la propria libertà e a tenersi fuori dalla società e a non avere che lavoro senza distrazioni tutto ciò mi ha scavato delle rughe che non si cancelleranno ora che questo comincia a pesarmi troppo credo sia più che giusto metterci un punto fermo ti prego perciò di scrivere al dottor Peron che mi lasci partire diciamo fra 15 giorni al più tardi lascerai passare il momento buono di calma fra le due crisi mentre partendo ora avrai il tempo necessario per conoscere il nuovo medico e se dopo un certo tempo ritornasse una crisi sarebbe ormai prevista e secondo la sua gravità potremmo decidere se posso continuare a stare libero o se è il caso di sistemarmi per sempre in una casa di cura in quest'ultimo caso come ti ho già detto in una delle ultime lettere andrà in una casa dove i malati lavorano nei campi e in laboratorio credo che vi troverai soggetti da dipingere ancora più numerosi che qui rifletti sul fatto che il viaggio costa caro che qui è inutile e che ho pure il diritto di cambiare ricovero se mi piace non è la libertà assoluta che reclamo ho cercato di essere paziente finora non ho fatto male a nessuno è giusto farmi accompagnare come una bestia pericolosa tanti grazie io protesto se sopravviene una crisi in tutte le stazioni sanno come fare e allora lascerò fare ma oso sperare che il mio contegno non darà fastidio ho tanto dolore di dover partire così che esso sarà più forte della pazzia avrò perciò oso crederlo il contegno necessario il signor Peironda ha delle risposte vaghe per sollevarsi dice lui dalla sua responsabilità ma facendo così non ci sarà mai fine la cosa si trascinerebbe e si finirebbe per urtarsi da una parte e dall'altra la mia pazienza è al limite mio caro fratello non ne posso più bisogna cambiare anche in peggio e intanto c'è un'effettiva probabilità che il cambiamento mi faccia bene il lavoro va avanti bene ho fatto due quadri dell'erba nuova nel parco uno dei quali è di un'estrema semplicità eccone uno schizzo veloce un tronco di pino viola rosa e poi dell'erba con dei fiori bianchi e dei fiori di radicchio un piccolo roseto e altri tronchi d'alberi nel fondo verso l'alto della tela laggiù tarò fuori sono certo che la voglia di lavorare mi divorerà e mi renderà insensibile tutto il resto e di buon umore e mi lascerei andare non senza riflettere ma senza soffermarmi a rimpiangere le cose che avrebbero potuto essere dicono che nella pittura non bisogna cercare niente sperare nient'altro che un buon quadro una simpatica chiacchierata o una buona cena come massima felicità senza contare le parentesi meno brillanti forse è vero e perché rifiutare il possibile soprattutto se così facendo si dà il cambio ai periodi di malattia una forte stretta di mano a te e a Joe credo che farò un quadro per me riprendendo il soggetto della fotografia forse non sarà rassomigliante ma comunque farò del mio meglio spero presto e da bravi risparmiatemi quel forzato compagno di viaggio tuo Vincent o verso Royce ultimi di maggio 1890 mio caro Theo mia cara Joe grazie della tua lettera che ho ricevuta questa mattina e dei 50 franchi acclusi oggi ho rivisto il dottor Gachet e andrò a dipingere da lui martedì mattina poi pranzerò con lui e dopo verrà a vedere i miei quadri mi sembra una persona molto sensata ma è tanto scoraggiato del suo mestiere di medico di campagna quanto io della mia pittura e allora gli ho detto che cambierai tanto volentieri le nostre due professioni insomma sono portato a credere che finiremo per diventare amici del resto mi ha detto che se la malinconia o qualcosa d'altro diventasse troppo forte perché io possa sopportarla ci potrebbe essere forse qualcosa d'altro da fare per mitigarla e che non dovrei vergognarmi di essere sincero con lui e va bene verrà certamente quel momento in cui potrò aver bisogno di lui però fino ad oggi va tutto bene e forse potrà anche migliorare sono sempre convinto di aver preso una malattia tipica del sud e che l'essere tornato qui farà passare tutto spesso molto spesso penso al tuo piccolo e mi dico allora che vorrei che fosse abbastanza grande per venirsene in campagna perché a levarli fuori è la cosa migliore come mi piazzerebbe che tu Joe e il piccolo prendeste una vacanza in campagna invece del solito viaggio in Olanda oh lo so bene che la mamma vorrà assolutamente vedere il bambino ed è questa certamente una ragione per andarci eppure sono certo che essa capirebbe se si trattasse veramente di giovare al piccolo qui si è abbastanza lontani da Parigi per essere nella campagna vera e propria ma pure quanto è cambiato dal tempo di Dubigny ma non è cambiato in modo spiacevole ci sono molte ville e abitazioni diverse moderne e borghesi molto sorridenti piene di sole e fiorite e questo in una campagna quasi grassa proprio nel momento dello sviluppo di una nuova società insieme a quella vecchia non è per niente spiacevole c'è molto benessere nell'aria credo di vedere una calma la poufée de Chavain niente fabbriche ma un bel verde in abbondanza e ben tenuto vuoi dirmi quando ti capiterà qual è il quadro che ha comprato la signorina Boch devo scrivere a suo fratello per ringraziarli e poi voglio proporre lo scambio di due miei studi con due dei loro ho un disegno di un vecchio vigneto da cui ho in mente di ricavare un quadro da 30 poi uno studio di castagni rosa e uno di castagni bianchi ma se le circostanze me lo consentiranno spero di fare un po' di figura a poco a poco i quadri mi si presentano alla mente ci vorrà del tempo perché la visione si chiarifichi ma a poco a poco verrà se non fossi stato ammalato avrai scritto già da tempo a Boch e a Isaacson il mio baule non è ancora arrivato ed è cosa che mi secca questa mattina ho spedito un telegramma ti ringrazio anticipatamente della tela e della carta ieri e oggi è piovuto e ha fatto temporale ma non è per niente spiacevole rivedere quelle luci neppure i letti sono ancora arrivati ma nonostante questi fastidi mi sento felice di non essere più così lontano da voi e dagli amici spero stiate bene in salute però mi sembrava che tu avessi meno appetito del solito e da quanto dicono i medici per la nostra costituzione occorrerebbe un nutrimento molto solido fa perciò giudizio in queste cose e anche Joe e anche Joe che deve nutrire il piccolo bisognerebbe veramente raddoppiare la dose per lei niente sarebbe esagerato quando si tratta di mettere al mondo e di nutrire dei bambini altrimenti succede come un treno che va ad agio anche quando la strada è dritta c'è sempre tempo per ridurre il vapore quando la strada si presenterà accidentata una stretta di mano tuo Vincent over su Royce 4 giugno 1890 mio caro Theo già da diversi giorni avrei desiderato scriverti con la mente riposata ma sono stato preso dal lavoro questa mattina mi è arrivata la tua lettera della quale ti ringrazio e anche il biglietto da 50 franchi che conteneva sì sono convinto che per molte cose sarebbe opportuno che noi stessimo ancora tutti qui insieme per otto giorni delle tue vacanze se non sarà possibile di più penso spesso a te a Joe e al piccolo e vedo che i bambini all'aria libera qui sembrano star benone eppure è già abbastanza difficile allevarli qui a maggior ragione deve essere terribile in certi momenti conservarli sani e salvi a Parigi in un quarto piano ma insomma bisogna prendere le cose come vengono il dottor Gachet dice che è necessario che il padre e la madre si nutrano bene parla di bere due litri di birra al giorno in questi periodi sono certo che ti farebbe piacere conoscerlo di più e lui ci conta già ne parla tutte le volte che lo vedo e chiede quando verrete tutti mi sembra malato e sfinito come te e me è più anziano e ha perduto anni fa sua moglie ma è un grande dottore e il suo mestiere e la fede lo sostengono noi siamo già molto amici e per caso ha conosciuto Bria di Montpellier e la pensa come me nei suoi riguardi e cioè che è una persona molto importante nella storia dell'arte moderna sto lavorando al suo ritratto la testa con un berretto bianco è molto bionda molto chiara anche le mani sono di carnagione chiara ha una marsina azzurra e c'è un fondo blu cobalto è appoggiato a un tavolo rosso sul quale c'è un libro giallo è una pianta di digitale a fiori rossi ha la stessa atmosfera del mio ritratto che mi sono fatto quando sono partito per venire qui il signor Gachet è fanatico di quel ritratto vuole che gliene faccia uno per lui se posso assolutamente identico cosa che desidero fare anch'io ora è arrivato anche a capire l'ultimo ritratto di Arlesiana di cui tu hai un ritratto in rosa quando viene a vedere i miei studi ritorna sempre su quei due ritratti e li accetta in pieno ma in pieno così come sono spero di mandarti presto un suo ritratto poi ho dipinto da lui due studi che gli ho regalato la settimana scorsa una pianta di alce con dei fiorranzi e dei cipressi e poi domenica scorsa delle rose bianche in un vigneto e in mezzo una figura bianca probabilmente farò anche il ritratto di sua figlia che ha 19 anni e con la quale sono certo che Joe farà presto amicizia e allora me ne farò una festa di eseguire i ritratti di voi tutti all'aria aperta il tuo, quello di Joe e quello del piccolo non ho ancora trovato niente di interessante in fatto di studi e intanto sarò obbligato a trovare una stanza per sistemare i quadri che ingombrano a casa tua e che sono da tangui perché hanno bisogno ancora di molti ritocchi ma intanto vivo alla giornata è un tempo così bello e la salute va bene vado a letto alle nove però mi alzo quasi sempre alle cinque sono certo che sarà tutt'altro che spiacevole ritrovarsi dopo una lunga assenza e spero anche di continuare a sentirmi più sicuro del mio pennello di quanto mi sentissi prima di andare ad Arl e poi il signor Gachet dice che non ci sono probabilità che il male ritorni e che ora va benissimo ma anche lui si lamenta amaramente dello stato di cose nei villaggi dove egli sta diventando un estraneo e dove la vita diventa così orribilmente cara dice di meravigliarsi che le persone dove sto mi diano alloggio e cibo per così poco e che ho avuto fortuna in confronto ad altri che sono venuti e che egli ha conosciuto se verrai con Joe e il piccolo il meglio che potrete fare è di stabilirvi nella stessa locanda attualmente niente assolutamente niente mi tiene qui salvo Gachet ma questi resterà un amico per quanto possa prevedere sento che in casa sua posso lavorare abbastanza bene tutte le volte che ci vado e lui continuerà ad invitarmi a pranzo tutte le domeniche o il lunedì ma finora seppure mi fa piacere dipingere da lui un quadro è pur sempre una servitù per me pranzare o cenare da lui perché quell'ottimo uomo si dà un sacco da fare per preparare dei pranzi con quattro o cinque portate il che è una cosa atroce sia per me che per lui perché non ha certamente uno stomaco molto forte ciò che mi ha trattenuto dal dirgli qualcosa è il fatto che mi sono accorto che questo gli ricordo ai tempi passati nei quali faceva dei pranzi in famiglia che noi del resto conosciamo molto bene ma l'idea moderna di mangiare una tutta il più due portate è veramente un progresso è un lontano ritornare alla vera antichità insomma papà Gachet è molto molto simile a te e a me ho letto con piacere nella tua lettera che il signor Peron ha chiesto mie notizie gli scriverò questa sera stessa che sto bene perché è stato molto buono con me e certo non lo dimenticherò De Smolin quello che espone dei quadri giapponesi al Champ de Mar è tornato qui e spero di incontrarlo cosa ha detto Gauguin dell'ultimo ritratto di Arlesiana che è fatto su un disegno della sua finirai per vedere credo che è una delle cose più buone che ho fatto Gachet ha un quadro di Guillaman donna nuda su un letto che trovo molto bello ha anche un vecchissimo autoritratto di Guillaman molto diverso dal nostro scuro ma interessante ma la sua casa vedrai è piena piena come quella di un antiquario di cose sempre interessanti ma in tutta questa roba c'è questo di buono che può sistemare dei quadri di fiori o di natura morte e questo è sempre qualcosa ho fatto questi studi per lui per dimostrargli che se non sono un paziente che lo paga in denaro non per questo lo danneggeremo per le sue prestazioni nei nostri riguardi conosci un'acqua forte di Brackmont il ritratto del conte? è un capolavoro ho bisogno al più presto possibile di dodici tubi di bianco di zinco di tassè e di due tubi medi l'acca geranio poi appena potrai mandarmeli ci terrai moltissimo a copiare ancora una volta tutti gli studi a carboncino di Brack sai specialmente i nudi posso disegnarli abbastanza rapidamente nello spazio di un mese tutti i 60 fogli perciò mandamene un esemplare in visione farò in modo di non spiegazzarli o sporcarli se trascurasse di studiare ancora un po' le proporzioni e il nudo mi troverei a mal partito in seguito spero che ciò non ti sembri né assurdo né inutile Gachet mi ha anche detto che se volessi fargli un grande piacere desidererebbe che rifacessi per lui la copia della pietà di Delacroix che ha guardato per tanto tempo in seguito probabilmente mi darà una mano per i modelli sento che ci capirà sempre e che lavorerà con me e con te senta riserve per l'amore dell'arte e per l'arte con tutta la sua intelligenza e forse mi farà avere dei ritratti ora per avere dei clienti per i ritratti bisogna poter mostrare quelli che si sono già fatti ecco la possibilità che vedo di collocare qualcosa però alcuni quadri un giorno troveranno degli amatori trovo soltanto che tutto il rumore che hanno fatto i forti prezzi pagati in questi ultimi tempi per i quadri di mille non hanno fatto che peggiorare la situazione per quanto si riferisce alla probabilità che abbiamo di coprire unicamente le proprie spese di pittura è una cosa che fa venire le vertigini pensandoci su uno si sente abbrutito perciò è meglio cercare un po' di affetto e vivere alla giornata spero che il piccolo continui a star bene e anche voi due fino a quando vi rivedrò presto vi stringo forte la mano Vincent Ovalz-Royce 27 luglio 1890 mio caro fratello grazie della tua lettera e del biglietto da 50 franchi che conteneva vorrei scriverti a proposito di tante cose ma ne sento l'inutilità spero che avrai trovato quei signori ben disposti nei tuoi riguardi che tu mi rassicuri sulla tranquillità della tua vita familiare non ne valeva la pena credo di aver visto il lato buono come il suo rovescio ed il resto sono d'accordo che tirar su un marmocchio in un appartamento al quarto piano è una grossa schiavitù sia per te che per Joe poiché va tutto bene che è ciò che conta dovrei insistere su cose di minima importanza in fede mia prima che ci sia la possibilità di chiacchierare di affari a mente più serena passerà molto tempo ecco l'unica cosa che in questo momento ti posso dire e questo da parte mia l'ho constatato con un certo spavento e non ho ancora superato ma per ora non c'è altro che altri pittori che ne pensino si tengono istintivamente lontani dalle discussioni sul commercio attuale è poi vero che noi possiamo far parlare solo i nostri quadri eppure mio caro fratello c'è questo che ti ho sempre detto e che ti ripeto ancora una volta con tutta la serietà che può provenire da un pensiero costantemente teso a cercare di fare il meglio possibile te lo ripeto ancora che ti ho sempre considerato qualcosa di più di un semplice mercante di coro e che tu per mezzo mio hai partecipato alla produzione stessa di alcuni quadri che pur nel fallimento totale conservano la loro serenità perché siamo a questo punto e questo è tutto perlomeno la cosa principale che io possa dirti in un momento di crisi relativa e in un momento in cui le cose fra i mercanti di quadri di artisti morti e di artisti vivi sono molto tese ebbene nel mio lavoro ci rischio la vita e la mia ragione vi c'è consumata per metà e va bene ma tu non sei fra i mercanti di uomini per quanto ne sappia e puoi prendere la tua decisione mi sembra comportandoti realmente con umanità ma che cosa vuoi mai grazie a tutti